Manifestazione a sorpresa dei lavoratori della Treofan di Battipaglia a Napoli nei pressi del palazzo della regione Campania. Gli operai sono stati ricevuti dall'assessore alle attività produttive Antonio Marchiello, al quale hanno illustrato le loro richieste affinché se ne faccia portavoce nel tavolo che lunedì prossimo è stato convocato al Mise. Un incontro importante, quello in programma lunedì, nel quale gli indiani della Gindal dovrebbero presentare il tanto atteso piano industriale. Treofan, Treofan, non si chiude! Battipaglia non si tocca, Battipaglia non si tocca!